Ciao a tutti da Emanuele Rauco, questi video di Mr. Graucio Romano da Bari per il B-Fest 2014 in collaborazione con 4Magazine. Seconda giornata del festival, ieri è stato il giorno di Paolo Sorrentino che ha fatto un incontro con il pubblico barese, il primo incontro pubblico dopo l'Oscar La Grande Bellezza. Abbiamo scoperto la schizofrenia in un certo senso di Paolo Sorrentino, perché se con i giornalisti è sempre molto scostante, molto infastidito, magari anche ha ragione, non è che siamo noi giornalisti di cinema particolari cime o particolarmente interessanti, ha le sue ragioni magari per odiarci, però con noi è scostante, con noi è indifferente, è cinico, tutte queste caratteristiche le sa trasformare in una certa simpatia graffiante quando ha a che fare con il pubblico. Quindi insomma quell'incontro gli è stato molto bello, poi vabbè sul film non c'è molto da dire, il film a me è piaciuto molto, vabbè sono tutte cose vecchie, il film è stato riproiettato, oggi al pubblico barese è piaciuto parecchio e questo insomma ci mette un po' anche in difficoltà, perché un film che pensiamo che alla critica possa piacere al pubblico o no, poi accade il contrario, vabbè ma questi sono discorsi particolari. Tra l'altro l'incontro con Sorrentino dopo, insomma con la stampa, ha messo in mostra alcune lacune del festival dal punto di vista organizzativo, è come se neanche loro fossero in grado di gestire l'interesse del festival ed insomma dei giornalisti al festival, però queste magari sono cose di cui non ve ne frega un'emerita. La cosa interessante di ieri è che ogni sera ci sono tanti film, opere prime e seconde, film italiani già editi, varie lezioni, la più, come posso dire, una delle più interessanti è le anteprime internazionali, se c'era stato no a ieri, vi invito a rivedere la recensione se ve la siete persa, insomma il mio video commento, ieri c'era The Grand Budapest Hotel, l'ultimo film di Wes Anderson, in pillole, perché poi magari ne parlerò più approfonditamente in uno dei miei video, The Grand Budapest Hotel è un film, è la radicalizzazione dello stile di Wes Anderson, per cui se amate, vi piace Wes Anderson, il film potrebbe piacervi in modo radicale e chiaramente viceversa. Tutto il suo lavoro sul colore, sulla geometria, sulla simmetria esasperata dell'immagine, arriva a mescolarsi con invece la storia il più colorata, il più tenera, il più pastellosa possibile. Questo può piacere o può non piacere, secondo me una cosa innegabile nel cinema di Wes Anderson e che questo mostra incredibilmente, innanzitutto la sua gioia nel lavorare con le materie del cinema dei generi. Qui c'è l'avventura proprio nello spirito fanciullesco, infantile, come quando da bambini giocavamo tra di noi e facevamo le avventure, facciamo finta che siamo in questo posto. Questo tipo di immaginazione, questo tipo di sensazione nel vivere un'avventura, che secondo me è il senso poi forte e vero di ogni tipo di avventura, sia il cinema che il letteratura, qui c'è benissimo ed è perfettamente incanalato all'interno di un meccanismo narrativo e cinematografico che guarda il grande cinema del muto, l'uso delle scene, delle scenografie, dei fondali, che guarda il muto agli anni 20, agli anni 30. Quella gioia lì è fortissima e secondo me viene trasmessa dallo spettatore. L'invenzione, il fatto di saper fondere benissimo i contrasti tra questo stile tanto geometrico da poter essere glaciale e invece la storia che è il più dolce e il più calda possibile. E poi, è una cosa innegabile, un ritmo interno del film incredibile. Il che non significa che è un film frenetico, un film dove succedono 600 mila cose, ma il ritmo, la progressione del film, il fatto che ogni scena sia importante e fondamentale, se te la perdi, non è che hai perso qualcosa della storia e non sai come andare avanti. Ogni scena è fondamentale ed è importante perché c'è qualcosa dentro, un'invenzione, un'idea, una trovata, un gioco. Tutto questo è legato una scena all'altra e lascia allo spettatore la sensazione proprio di un grande viaggio, di una grande scoperta nelle meraviglie. Wes Anderson è un grandissimo regista, secondo me, ed è uno dei pochi che vi consiglierei anche a scatola chiusa. Questo è The Grand Budapest Hotel. Questo era il mio video per il secondo giorno. Mi raccomando, seguitemi sul mio canale, seguitemi su www.forzin.it, ovviamente sotto vi metto tutti i vari link. Domani ci vediamo con vari ed eventuali, sicuramente con il nuovo film di Cameron Diaz. Hai capito?